Grazie a tutti, siamo arrivati alla fine di questa scadenza elettorale molto importante, vi ringrazio per il numero importantissimo di voti che sono giunti alle mie liste, da domani tutti insieme lavoreremo per migliorare ancora il nostro Paese, grazie di essere venuti a votare così numerosi, non solo per me ma per tutte le liste in campo, è stata veramente una bella giornata per la democrazia sancascianese, quella di ieri che ha visto oltre 10.000 elettori coinvolti, da domani appunto ricominceremo a lavorare con lo stesso impegno e ancora più dedizione.